Cari amici followers, Beatrice Borromeo, già sospettosa di suo, una moglie capisce al volo certe cose, decise allora di effettuare la prova del 9 e constatò allora che il marito presentava un grave, quanto improvviso, quanto inspiegabile, deficit sessuale, ossia niente più pisellino né cicatrice sullo stesso. Beatrice Borromeo corse quindi immediatamente a denunciare la scomparsa del vero marito Pieralberto e tutto il pianeta Terra la additò come pazza perché avrebbe dovuto cominciare a drogarsi per poi prostituirsi. Fortunatamente, quando Beatrice Borromeo dovrà spiegare di aver infilato le mani dentro le mutanne di un altro, si troverà davanti un marito moderno, civile, comprensivo, in attesa di chiarimenti da parte del pianeta Terra. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.